E allora buongiorno, buongiorno a tutti, faccio questo video perché mi devo sfogare, perché mi sono rotto i coglioni, e allora voi iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, guardatevi i video fatti, andate a fare gli auguri a San Pietro da Terracciano nel video precedente, devastate di like e soprattutto non rompetemi i coglioni che quest'oggi ho da dire cose gravi. Allora iniziamo dalla partita di ieri, Chelsea-Borussia Dortmund che è stata incensata da tutti, il divertimento, il calcio europeo, ha fatto cagare, una partita di merda, io l'ho vista ieri, un caos totale, zero raziocinio, zero tattica, corse di cavalli a destra e a manca, tutti i cambi di fronte che ti veniva il mal di testa, un allenatore che è in svantaggio deve segnare e toglie la prima punta per metterne un'altra. Cioè se questo è il calcio da vendere, se questo è lo spettacolo, ma sembra un film action movie americano con Schwarzenegger, con tutto il rispetto, ha lo spessore di uno Schwarzenegger una partita del genere. Cioè esistono delle vie di mezzo, è tra i mappazzoni, i difensivisti, i ricevibili, e queste cose qui che mica è calcio, quello che ho visto è football americano, mancavano gli elmetti con le visiere, non ditemi che è calcio di qualità, è triathlon, non è mica calcio. Non si è capito un cazzo. La partita senza una fabula, senza un tramaccio, senza le maiuscole, senza i punti, gente che andava, veniva, un disastro. Un disastro, irricevibile, inseguibile, una partita che non potevi seguire, per carità di Dio, per carità di Dio. Poi è nato un florileggio di pettazioni su Roma-Juventus, e guarda te se a me tocca difendere Murigno o l'Allegri di turno. Però faccio notare, guardate che è stata una partita non dissimile da Juventus-Villa-Real di qualche tempo fa. Semplicemente hai visto una Roma che si è difesa, voglio dire anche tutto sommato lecitamente, perché la Roma affrontava comunque una squadra tecnicamente più forte, ci sta che possa adottare una tattica anche più conservativa. Il problema della Roma è che spesso la vedi giocare così, anche contro squadre che dovrebbe asfaltare o avere più semplicità, ma nel momento in cui mi fai una tattica del genere contro la Juve, anzi è una tattica sbeffeggiante per certi versi, perché tu imponi alla Juventus di giocare, la Juve non lo sa fare, e poi ci veniamo perché non è assolutamente abituata a giocare bene, e poi veniamo al concetto di giocare bene. La Roma si è difesa con ordine, ha fatto due o tre ripartenze, e l'ha portata a casa con un tiro da fuori. Ok? No, allora, Roma-Juve diventa la partita inguardabile e quello di ieri diventa lo spettacolo da esaltare. Per me sono due partite che per motivi diversi sono assolutamente tralasciabili, ma questa cosa che si è scoperto oggi, che Roma e Juventus giocano male, mi fa anche ridere. Questa cosa che dovevano dare spettacolo, o che si accusa alla Roma, ma cioè, paradossalmente, la Roma fa 40 partite di campionato, c'è il mainstream che la va a giudicare, a petare, guarda caso, solo quando gioca contro la Juve di Allegri, che è una delle poche gare, dove puoi anche permetterti una logica un po' difensiva, e faccio notare, è stata anche una tattica, per certi versi intelligente, che pure il Villareal adottò contro la Juventus in Champions, se che pure ebbe effetto. Poi ci sono gli Juventini, quelli allegriani, che non sapendo cosa vuol dire giocare bene al calcio, loro sbeffeggiano quelli che parlano di bel gioco e di calcio giocato bene, credendo che il giocare bene sia fare possesso palla o avere il baricentro più alto di quello dell'avversario. Loro hanno questa infarinatura manitoba qui, quando non è assolutamente così, il giocare bene è giocare in modo funzionale alle caratteristiche dei giocatori, esaltandoli, è giocare con velocità di esecuzione, applicando in partita movimenti efficaci, tesi al gol, alla vittoria, quali sovrapposizioni, scambi veloci, triangolazioni che portino la squadra a segnare e a devastare l'avversario e difendere con ordine e con intensità, recuperando la palla, possibilmente favorendo il pressing alto. Questa è un'idea di gioco. Mi dite cosa ha fatto la Juve di tutto questo contro la Roma domenica scorsa? Un cazzo. Niente di tutto questo. Squadra lenta, squadra lenta, non si vede uno straccio di sovrapposizione, uno straccio di schema provato in allenamento, squadra quindi anche che quando si ritrova ad attaccare sbaglia molto, non copre bene gli spazi, non si trova, occasioni evenemenziali, quali pali, cose così, ma che non portano a nulla. È un possesso spesso sterile, perché proprio non lo sai funzionalizzare, non lo sai organizzare e tendere verso un qualcosa di funzionale ed estremamente efficace a tutto tondo. Non è giocare bene quello. È la stessa Rettori Caccia che era venuta fuori dopo la gara col Villareal. Hai visto una Juve fare possesso sterile in una specie di mezzaluna nella metà campo avversaria, che anzi era la denuncia prima del tuo non saper giocare a calcio, ok, però ha giocato bene, perché ha fatto possesso palla e il Villareal ha vinto di contropiede. Ma che cazzo vuol dire? Mica è giocare bene e fare quello che hai fatto. Rettoriche su Kostic che ha asfaltato Zaleschi, ma dove? Sono d'accordo con voi che era un rischio quello di Murigno di mettere Zaleschi su Kostic, ma alla fine è un rischio che si è preso e che, non dico che abbia pagato, perché non è che l'hai vinta per Zaleschi, ma quantomeno non ha punito. Perché io di Kostic mi ricordo una o due sgroppate, ma è quello l'asfaltare, anche quei termini totalmente utilizzati in modo decontestualizzato. Rettori Caccia del cazzo. Sono Roma. Si sa come gioca la Roma. Non è che Murigno diventa giochista quando deve affrontare Allegri. Grazie al cazzo. Forse brucia perché l'ha battuto alla modalità di Allegri, ma la Roma non è che gioca così da oggi. La Roma sono 56 partite che gioca bene o male così. Io alla Roma di calcio entusiasmante, fomentante, funzionale, moderno, devastante. Gli avrò visto fare due partite. Mi ricordo l'Atalanta, il Roma-Atalanta del ritorno dell'anno scorso. Poche altre, onestamente. Il derby di ritorno con Alazio, che non era neanche scesa in campo. Non è che me ne ricordo altra. Roma è questo. Neanche a me piace, così come non mi piace Allegri. Anch'io sono convinto che siano due allenatori assolutamente sorpassati e che neanche centrano molto con quello che è il calcio italiano oggi, indipendentemente dalla squadra, perché il calcio italiano è un calcio che ha bisogno di costruire e non di gestire. Anche nelle due realtà dove sono loro, specialmente la Roma. Però questo è. Poi, a proposito di calcio italiano da che minuto siamo? Da costruire e da ricostruire, chiudo con Mancini. Perché l'Italia è il paese nel quale un allenatore della nazionale quattro volte campione del mondo, ok? Quattro volte campione del mondo, dopo aver perso un play-off qualificazione al mondiale in casa contro la Macedonia del Nord, dopo un girone assolutamente abbordabile fatto in modo orrendo, non è che si dimette l'allenatore o che viene lasciato a casa, no, viene elogiato per la convocazione di un 26enne, ok? Perché adesso sono giovani anche i 26enni, che giocano il campionato rumeno, compagno, una cosa del genere. Così come queste, sempre queste convocazioni, capito, che vengono fatte un po' per solleticare gli animi, come Paffundi, che fu convocato così. Poi esce l'articolo che Mancini convoca i giovani, il mancio scopritore di talenti che premia Paffundi. Adesso verranno fuori gli articoli su di questo, con tutta la stampa che ci deve andare dietro alle mirabolanti convocazioni di Mancini quando al posto di fare queste con Gnonto, su Gnonto, madonna cosa si è scritto su Gnonto, o su Di Marco che veniva dipinto come cazzo avessimo Roberto Carlos in casa, è bastato un Gosens con le pive nel sacco, ho fatto giocare due, due partite di fila all'Inter per capire che se c'è uno sul quale puntare tra i due, onestamente ancora preferisco Gosens con tutto il rispetto per Di Marco, quando al posto di tutte queste retoriche, sto acme giornalistico su Murigno, che è tanto inutile, anche se voi potete scrivere quel cazzo che volete, sempre con la Macedonia del Nord in casa è uscito questo qui, sempre con la Macedonia del Nord in casa è uscito questo qui, e ancora ci dobbiamo ossorbire le retoriche, le narrazioni, quando abbiamo fatto un girone di qualificazione mondiale a giocare con genti, i Verrati, i Giorginio, gente che gli insigne, gente che aveva già dato tutto e di più, c'era gente come Zaccagni, che all'epoca quando si diceva convoca i Zaccagni, convoca i Tonali, fai uno step in più, zero, niente assoluto, abbiamo fatto con la riconoscenza verso questi che hanno vinto un europeo, che lasciamo stare, e adesso ci dobbiamo ossorbire le retoriche sui giovani che vengono convocati da Mancini, quando dopo 20 minuti, questo città qua, se eravamo in una situazione come si deve, dopo 20 minuti dal fischio finale presentava le dimissioni e gliele accettavano, se non le presentava il giorno dopo la PGC, lo chiamava e gli diceva, ascolta, grazie per tutto, in bocca al lupo, ma è finita qua. Bene, ciao.